Due operazioni complementari sono state concluse con successo dal gruppo Credit Agricole in Italia che rilancia i suoi investimenti nel private equity italiano con l'obiettivo di sostenere la crescita delle imprese attraverso l'apertura di due nuovi fondi, Fondo APEI Private Equity Credit Agricole Italia e Ambition Agriagro Investissement. Con il primo fondo con un target size di 100 milioni di euro, il gruppo intende investire in aziende di medie dimensioni per accompagnarle nel loro sviluppo, consolidamento, internazionalizzazione e ricambio generazionale. Gli investimenti del fondo APEI avranno un approccio generalista in settori diversificati e saranno rivolti a medie imprese non quotate, con fatturato indicativamente compreso tra 10 e 250 milioni di euro caratterizzate da buona redditività e solidità patrimoniale. Grazie al fondo Ambition Agriagro Investissement, il gruppo aderisce all'iniziativa volta ad effettuare investimenti nel capitale di aziende sia francesi sia italiane operanti nel settore agroalimentare. L'obiettivo è quello di sostenere le imprese con un approccio di investimento responsabile e differenziante che affronti le sfide della transizione agricola e agroalimentare e di rendere il settore ancora più competitivo e rispettoso della biodiversità preservando le risorse naturali dai cambiamenti climatici. Il fondo ha una dotazione di 300 milioni di euro e punterà a investire fino a un terzo del totale delle risorse raccolte in Italia. Il gestore del fondo è Idia Capital Investissement, società di private equity controllata dal gruppo Credit Agricole.